Ieri era l'anniversario della sottoscrizione al Trattato di Roma, 60 anni dal 25 marzo del 57 e gli anniversari, soprattutto in questo caso, più che di festeggiamenti magari sarebbe il caso di fare qualche bilancio. Io credo che non ci sia niente da festeggiare in questo sessantesimo anniversario, né da parte nostra ma neanche da parte delle istituzioni europee e dei poteri forti che stanno dietro quelle istituzioni. Vediamo però prima il disastro che si è prodotto in Europa, il disastro sociale in particolare dalla crisi del 2008 a oggi, perché oggi ci dicono con toni trionfalistici che siamo ormai fuori da questa lunga crisi, però le sue conseguenze e i suoi effetti sono ancora ben presenti sul terreno sociale e si esprimono ad esempio in percentuali inedite di disoccupazione che sono state raggiunte. Se nel 2007 nell'Unione Europea c'era una disoccupazione media del 7,2%, oggi è all'8,5%, quindi è più alta dei livelli pre-crisi e in particolare questo differenziale aumenta per l'Italia, la Grecia e la Spagna, l'Italia che passa da un 6,1% a un 12%, la Grecia dall'8,4% del 2007 arriva a un 23,5% nel 2016 e la Spagna passa dall'8,2%, che è un comunque percentuale di disoccupazione ragguardevoli, soprattutto considerando che le statistiche tendono a sottostimare la disoccupazione, passa nel 2016 in Spagna al 19,6%. Particolarmente grave è la situazione della disoccupazione giovanile che in Italia è raddoppiata passando dal 20% del 2007 al 40% del 2016 e ha dimensioni ancora più drammatiche in Grecia dove è al 47,2% e in Spagna al 44%. Sempre in questo periodo, fra il 2007 e il 2015, è stato calcolato che in Europa sono emersi 7 milioni di poveri in più, cioè 7 milioni di persone sono state ridotte in povertà dalle politiche messe in atto per fronteggiare la crisi capitalistica. È aumentata anche la diseguaglianza. In Europa ci sono circa 340 miliardari, ma ci sono 123 milioni di persone povere, cioè quasi un quarto della popolazione europea. In Italia il 20% della popolazione più ricca detiene il 61% della ricchezza, mentre il 20% della popolazione più povera detiene lo 0,4% della ricchezza. Questi sono i risultati, diciamo, delle politiche dell'Unione Europea. E queste politiche non sono ancora finite. Noi, ad esempio, lo diceva bene Andreu, siamo in una situazione di fragilità del sistema bancario, a cui potrebbe eseguire una ulteriore crisi con effetti ancora più violenti. violenti e, lo abbiamo visto in Italia, quanto ci costerà il salvataggio del Monte dei Paschi di Siena. Siamo di fronte a una situazione in cui il governo Gentiloni dovrà mettere in piedi una finanziaria lacrime e sangue da 20 miliardi di euro. Inoltre in questo periodo di crisi sono passate, in Italia ma in tutta Europa, delle riforme strutturali che hanno tolto diritti e hanno tolto in maniera diretta e indiretta salario. Ovviamente, diciamo, in Italia il Jobs Act, che trova però il suo corrispettivo francese nella Loa Travaille, che prevede anche lì libertà di licenziamento, possibilità di compressione salariale e aumento della giornata lavorativa. La riforma della scuola, la buona scuola di Renzi, porta a compimento attacchi in senso liberista che venivano portati da decenni alla scuola. Ma mai si era arrivati al compimento di una riforma strutturale che sostanzialmente rende le scuole pubbliche come delle aziende private. Hanno attaccato, anzi e anche qui hanno portato a compimento un sistema che in Italia era stato inaugurato nel 1995 da Lambertodini, di attacco alle pensioni con la riforma Fornero. Hanno operato dei tagli sulla sanità dal 2008 a oggi di circa 20 miliardi di euro. Un altro aspetto lampante di questa crisi europea è quello dato dalla questione delle migrazioni. e soprattutto dalla reazione delle politiche che sono state messe in campo e che sono state, molte delle quali sono state citate nel dibattito di questa mattina. L'Unione Europea costruisce un muro come quello fisico che Trump si propone di costruire al confine meridionale degli Stati Uniti, l'Unione Europea costruisce questo muro fatto di navi da guerra nel Mediterraneo, fatto di accordi infami con i paesi di transito e con i loro regimi come venivano citati, ma fatto anche di compressione dei diritti fondamentali delle persone attraverso, ad esempio, quello che è previsto nel pacchetto Minniti che prevede l'apertura di nuovi centri di identificazione ed espulsione, l'aumento della permanenza in questi centri, prevede l'impossibilità per le persone che subiscono un provvedimento di espulsione di ricorrere in appello, quindi andando a eliminare quello che era un diritto previsto, cioè quello a due gradi di giudizio, dalla Costituzione stessa. Si prevedono limitazioni alla libertà di movimento che verranno gestite da sindaci sceriffo e che potranno disporre che ci sono degli indesiderati, dei poveracci che rovinano l'immagine delle città perché magari fanno accattonaggio o hanno delle bancarelle abusive o vendono qualcosa per strada, che possono essere allontanati dai centri delle città. Infine la crisi dell'Unione Europea si sta dimostrando come una crisi di legittimazione dei suoi gruppi dirigenti perché non è possibile che questa barbarie sociale, questi livelli di povertà, di diseguaglianza, di disoccupazione, non vadano poi a minare il consenso nei gruppi dirigenti dell'Unione Europea. Pochi giorni fa è stato pubblicato un sondaggio in cui si dimostra come in Italia, che era uno di quei paesi in cui la fiducia nell'Unione Europea era la più alta, un paese più europeista a livello di senso comune di massa, tant'è che nel 1998 in questo stesso sondaggio il 73% degli intervistati dichiarava di avere fiducia nell'Unione Europea, nel 2017 questa percentuale è passata dal 73% al 34%, quindi è vertiginosamente crollata. Inoltre l'83% degli intervistati dichiara che l'Unione Europea è un obiettivo giusto, ma è stato realizzato in modo sbagliato. Quindi c'è un problema di consenso, d'altronde il problema di consenso lo avevamo visto anche con la Brexit e il problema è che questo fallimento e la perdita di legittimità dei gruppi dirigenti che hanno portato avanti il progetto dell'Unione Europea ha uno sbocco più facilmente a destra. L'ho avuto a destra con il processo di Brexit, fra l'altro a proposito dei festeggiamenti, il 25 marzo era il sessantennale del Trattato di Roma, ma il 29 marzo prossimo, cioè fra due giorni, si avvia proprio il negoziato per l'uscita del Regno Unito dall'Unione Europea che va un po' a guastare questo anniversario. Però indubbiamente quello è stato ed è un processo che è governato da destra, che ha assunto toni anche razzisti e di divisione fra i lavoratori nativi e migranti in Gran Bretagna e poi abbiamo sotto gli occhi di tutti l'avanzata delle destre in Europa, certamente Le Pen in Francia, ma anche in Italia il ruolo di Salvini e certi toni dello stesso Movimento 5 Stelle non lasciano ben presagire. Quindi a sessant'anni dal Trattato di Roma bisogna prendere atto che siamo di fronte a un possibile fallimento del progetto europeo anche da parte borghese, capitalistica. Ora vediamo questi correttivi, queste proposte, Europa a due velocità, se riusciranno a tenere in piedi un moribondo però sostanzialmente possiamo dire che anche dal punto di vista borghese il progetto dell'Unione Europea è fallito. E questo è un problema, sicuramente è un problema anche per noi, è un problema anche a sinistra perché l'Unione e la solidarietà europea è stato un manifesto della sinistra da sempre. Cioè di Stati Uniti d'Europa, ne parlava un rivoluzionario internazionalista come Giuseppe Garibaldi. Gli Stati Uniti socialisti d'Europa erano la bandiera dei rivoluzionari all'inizio dello scorso secolo. Era la bandiera di Lenin, era la bandiera di Trotsky. E lo stesso gli Stati Uniti socialisti d'Europa. E lo stesso manifesto di Ventotene che fu elaborato appunto al confino nel 1941 nasceva dalla necessità di superare l'era dei totalitarismi e costruire un'Europa diversa, un'Europa però socialista, questo spesso non si dice. Ve ne è uscito un passaggio molto breve. Un'Europa libera e unita è una premessa necessaria al potenziamento della civiltà moderna di cui l'era totalitaria ha rappresentato un arresto. La fine di questa era sarà riprendere immediatamente il processo storico contro la disuguaglianza e contro i privilegi sociali. Le vecchie istituzioni conservatrici, qui parla dei totalitarismi ma lo possiamo applicare alle istituzioni dell'Unione Europea, le istituzioni conservatrici che ne impedivano l'attuazione saranno crollanti o crollate e questa loro crisi dovrà essere sfruttata con coraggio e decisione. La rivoluzione europea per rispondere alle nostre esigenze dovrà essere socialista, cioè dovrà porsi l'emancipazione delle classi lavoratrici e la creazione per esse di condizioni più umane di vita. Questo era quello che diceva Spinelli. Oggi Spinelli spesso viene citato a sproposito, mi pare che gli è stata dedicata anche l'aula del Parlamento europeo, ma è esattamente il contrario di quello che si fa. Però il problema della solidarietà e della costruzione in Europa differente è un nostro problema storico ed è anche un nostro problema molto urgente. però vediamo come risponde la sinistra a questa crisi e alle esigenze che si pongono sul terreno europeo. Intanto io credo che ieri abbiamo dato una pessima immagine della sinistra e non abbiamo fatto una cosa utile, cioè una mobilitazione unitaria contro le politiche di austerità. Io credo che sia assurdo quello che è andato in scena ieri di due, tre, quattro manifestazioni che contestavano da sinistra il vertice dell'Unione europea e che non si sia riusciti a condividere una mobilitazione sul minimo comune denominatore, la critica delle politiche di austerità. Basta con le politiche di austerità. Poi lo sappiamo, e ne parlerò estensamente, delle divergenze che ci sono fra i vari pezzi della sinistra. Però in piazza si va insieme contro le politiche di austerità, si prova a colpire insieme per avere un minimo di efficacia. Quindi questo è sicuramente il primo problema, la mancanza di unità nella lotta. Però ci sono problemi anche nel merito delle risposte che vengono date alla crisi dell'Unione europea. E li sintetizzo in due impostazioni che secondo me sono sbagliate. E sono entrambi impostazioni di tipo riformistico, nonostante l'una sia più radicale dell'altra. Sono due riformismi, anche se da punti diversi, che arrivano allo stesso errore di fondo. Uno è il riformismo della sinistra europeista. C'è una sinistra, quella che per brevità, per sintesi, che si è espressa nella manifestazione di ieri mattina, che sicuramente pone delle questioni giuste e condivisibili. in primis la solidarietà internazionale tra i lavoratori e le lavoratrici in Europa. La questione centrale, fondamentale, è stato più volte sottolineato anche qui, dell'accoglienza dei migranti. Mi pare fosse anche lo striscione di apertura della manifestazione di ieri. Quindi su questo sicuramente c'è tanta condivisione. Però non possiamo nasconderci le responsabilità politiche delle stesse forze, di alcune delle forze politiche che hanno promosso il corteo di ieri mattina, che sono state e continuano a essere conniventi con la socialdemocrazia, che continua ad applicare le politiche di austerità a livello nazionale e locale, oltre che a livello europeo, credono di poter riformare le istituzioni europee con politiche chenesiane. E questa è una pericolosissima illusione. È una pericolosissima illusione. Non perché Keynes sia bandito dalle considerazioni delle possibili politiche economiche che vengono utilizzate dalla borghesia. Politiche chenesiane, sui generis, le fa anche la borghesia quando gli conviene. Non so se mi scuseranno gli specialisti se è troppo abusivo però annoverare a queste politiche ad esempio il quantitative easing che è proposto dalla banca centrale europea. Ma quello che sicuramente non è disposta a fare la borghesia e le sue istituzioni in questa fase di compressione dei tassi di profitto è quello semplicemente di concedere spazio ai salari e ai diritti. Cioè l'unica cosa che invece bisognerebbe fare dal nostro punto di vista per qualificare anche una solidarietà europea. E questa illusione ha già travolto e rischia di travolgere ulteriormente questa sinistra riformista nel tracollo della crisi di legittimità crisi di legittimità dei gruppi dirigenti in Europa. Cioè rischiano rischia la sinistra di essere messa sullo stesso piano di chi dirige le istituzioni dell'Unione Europea e quindi di venire attribuite le stesse responsabilità. Un caso estremo diciamo di questo è il sostegno che si continua a manifestare da parte dei promotori di ieri che hanno fra l'altro invitato anche Alexis Tsipras diciamo non poteva andare alla manifestazione ovviamente perché stava con i capi di Stato è stato invitato ai seminari che sono stati fatti nei giorni precedenti. Alexis Tsipras che sta applicando in Grecia come c'è stato illustrato da Sotiris il terzo memorandum con misure pesantissime contro la popolazione ma che diciamo è ha assunto il governo greco subito dopo il referendum del 2015 un segno ha invertito il proprio segno di classe. Basti pensare che una delle prime riforme che sono state imposte e ovviamente accettate in quel quadro dal governo greco quella sul diritto fallimentare che prevede che quando un'azienda dichiara formalmente fallimento i primi a essere rimborsati non sono più i lavoratori come è normalmente nel diritto fallimentare diciamo di tutto il mondo ma sono le banche creditrici e pensiamo diciamo di poter che la sinistra possa confondersi ancora con il governo di Tsipras in Grecia credo che bisogna fare piazza pulita e diciamo prendo atto con molto piacere anche delle parole di Eleonora in questo senso. Ancora diciamo un problema di questo quadro della sinistra riformista sono le burocrazie sindacali che ieri erano in piazza fra l'altro non solo c'era CGL Cisle Will in piazza e che sono copromotori della manifestazione e che però sono anche loro sono stati una parte del problema in questa fase perché in una diciamo sono stati protagonisti di una stagione contrattuale che possiamo definire di restituzione di diritti e salari sono stati firmati una serie di contratti collettivi non da ultimo e cito solo questo che però è da esempio quello dei metalmeccanici è stato firmato un pessimo contratto che mai la FIOM si sarebbe sognata di firmare appena qualche anno fa ma che ha fatto una svolta alla direzione della FIOM stessa che era la parte considerata un po' più conflittuale della CGL ha fatto una svolta di 180 gradi firmando il contratto dei metalmeccanici e sostenendolo poi tra i lavoratori nonostante un dissenso che si è manifestato pure in maniera corposa e poi diciamo l'unica l'unico tentativo di opposizione che è stato messo in campo dal sindacato fra l'altro neanche da Cisle Will solo dalla CGL è stato questo tentativo referendario che però si è sciolto come neve al sole da una parte diciamo si dismette la lotta per esempio contro il Jobs Act dopo lo sciopero del dicembre 2014 non si è fatto più niente però si è detto non vi preoccupate andremo con i referendum cioè si è data ai lavoratori l'illusione di poter invertire le cose sul terreno sul terreno referendario ma questa diciamo è la dimostrazione storica che quando noi diciamo non disdegniamo l'azione referendaria quando può essere diciamo uno strumento insieme però agli strumenti della lotta di classe cioè puoi avere anche lo strumento referendario cioè se hai una mobilitazione dei lavoratori e delle lavoratrici se hai scioperi se hai mobilitazioni sui luoghi di lavoro poi puoi arrivare a portare a casa il risultato eventualmente anche pensando di farlo con lo strumento referendario ma non così a freddo tant'è che il referendum si è squagliato come neve al sole noi non andremo neanche al referendum che era guardate bene l'unica iniziativa di contrasto messa in campo dalla CGL quello sulla reintroduzione dell'articolo 18 è stato bocciato dalla Corte Costituzionale i due quesiti su voucher e appalti sono stati neutralizzati con una manovra di cui diciamo sarebbe il caso di non fidarsi sento dalla sala che arrivano espressioni più sintetiche ma di cui sarebbe il caso di non fidarsi però diciamo su aspetti ovviamente minori della riforma del Jobs Act sono stati abrogati appunto l'utilizzo dei voucher e la riforma degli appalti però con l'intenzione di arrivare a diciamo far saltare il referendum per introdurre una qualche nuova forma diciamo di iper sfruttamento come iper sfruttamento era quello dei voucher fra l'altro richiesta anche da alcuni dei sindacati perché Cisle Will chiedono hanno contestato da destra il governo Gentiloni che ha abrogato i voucher infine diciamo in questo pezzo della sinistra riformista europeista c'è il pezzo di M25 diciamo di Varoufakis e composizioni simili diciamo quelle di Fassina che veniva citato citato prima che diciamo stanno in questo pezzo della sinistra euro riformista però condividono col pezzo di cui parlerò fra poco uno dei problemi cioè quello dell'inversione di cause ed effetti perché non si può pensare diciamo di uscire dalla crisi europea con delle mere proposte tecniche rispetto ad esempio a quelle che sono le proposte sulla questione monetaria cioè uscire dall'euro doppia valuta piuttosto che altre questioni tecniche cioè il problema è sociale non possiamo mettere il carro davanti ai buoi se non c'è la mobilitazione sociale non è che noi suggeriamo dei tecnicismi a chi diciamo sarebbe poi deputato a utilizzare quelle soluzioni non non si capisce e vengo appunto a parlare del secondo di questi riformismi che è quello della sinistra la sinistra diciamo così per brevità sovranista no è uno simolo ovviamente sinistra sovranista almeno per il concetto che io io dell'idea di sinistra è uno simolo però nei fatti è quello che si pone anche queste compagne e questi compagni pongono diciamo delle questioni giuste innanzitutto e condivisibili anche da parte nostra quella dell'irriformabilità delle istituzioni dell'Unione Europea questo lo dobbiamo dire a chiare lettere in particolare per quello che le istituzioni dell'Unione Europea che fra l'altro hanno preso anche i nomi che hanno attualmente il nome Unione Europea stessa è stato inaugurato proprio nel 1992 con il trattato di Maastricht da lì l'Unione Europea ha preso una piega diciamo assolutamente inaccettabile cioè si è costruita in maniera esplicita come un ulteriore strumento in mano alle classi dominanti di sfruttamento e di oppressione delle lavoratrici e dei lavoratori in Europa però accanto diciamo a questa idea giusta che viene posta ci sono una serie di problemi nelle proposte che vengono avanzate da questi compagni sovranisti li chiamo sovranisti perché appunto mettono l'accento sulla questione del recupero della sovranità nazionale però se noi parliamo di recupero della sovranità nazionale rischiamo di fare un discorso che è interclassista e che prescinde dalle dinamiche del conflitto sociale ora io non voglio però lo faccio fare un esempio semplice di quello che è successo nel 1992 voi sapete c'è stata una crisi speculativa che poi ha portato come soluzione e come politica che è stata poi inaugurata quella svalutazione della lira però ovviamente non gestita da un governo dei lavoratori per far riprendere un'economia socialista è stata fatta dai vari governi Amato poi Ciampi e ha portato diciamo dei risultati disastrosi anche in quel caso un aumento della disoccupazione spettacolare non come diciamo quello che vi ho citato prima che ha raddoppiato il tasso di disoccupazione ma quasi perché se nel 91 eravamo all'8,5% nel 95 usciamo da questo periodo con una disoccupazione all'11,2 mentre veniva tagliata la spesa sociale in maniera drammatica passando da 249 milioni di euro non c'era l'euro però diciamo sono stati rifatti i calcoli del 91 a 209 milioni di euro del 95 quindi meno 40 milioni di euro meno 16% di spesa sociale tra cui i tagli alle pensioni e riforme strutturali del calibro diciamo della chiusura definitiva della scala mobile e dell'inaugurazione diciamo della riforma delle pensioni che ha portato la sostituzione del del sistema a ripartizione con un sistema a contribuzione che era diciamo il fondamento della riforma Dini che è cominciata proprio in quegli anni lì allora questo per dire diciamo non è lo strumento monetario non è la gestione dello strumento monetario che in sé può portare vantaggi o meno ai salari e alle condizioni di vita delle classi lavoratrici ma il problema è proprio chi gestisce cosa quindi è il problema della dinamica del conflitto sociale della dinamica dei rapporti di forza tra le classi quindi noi dobbiamo arrivare ad avanzare una proposta che sia una proposta di classe sul diciamo per uscire dalla crisi per uscire dalla crisi europea e allora diciamo provo a delineare in modo un po' breve schematico alcuni elementi di questa proposta ma molte cose sono state diciamo mi facilita anche il fatto che molte cose sono state già dette sono state già avanzate questa mattina uno impariamo l'internazionalismo lo dico così diciamo noi certo siamo internazionalisti come formazione di storia però io credo che dobbiamo reimparare l'internazionalismo lo dobbiamo reimparare dai movimenti sociali in primo luogo dal movimento dei migranti dai movimenti dei migranti non solo diciamo i movimenti dei rifugiati per l'accoglienza il 18 marzo mi pare c'è stata in Europa una giornata che però ha avuto poco diciamo poco eco e poco seguito in Italia di mobilitazione per i rifugiati ma soprattutto impariamo dall'esperienza di lotta comune che abbiamo con i nostri fratelli e le nostre sorelle immigrati sui luoghi di lavoro le esperienze di lotte sindacali comuni che abbiamo non è un caso oggi in Italia uno dei pochissimi diciamo settori che esprime ancora una combattività dal punto di vista sindacale di battaglie sul luogo di lavoro è un settore come quello della logistica che ha fortissima composizione migrante ma anche il settore dei metalmeccanici oggi in Italia ha una forte in alcune regioni una fortissima composizione migrante i migranti fanno parte della nostra classe sono i nostri compagni di lavoro ed è con loro diciamo che dobbiamo costruire quindi è inconcepibile una proposta che non sia internazionalista su questo fra l'altro diciamo la repressione che è stata messa in campo sui migranti che lottano è stata di proporzioni tali da smascherare poi anche le le istituzioni e il loro servilismo rispetto a quelli che sono gli interessi dei gli interessi dei padroni e ricordiamo oggi il compagno dell'USB Abdel Salam che è stato ucciso durante una manifestazione durante un picchetto a una a una fabbrica e ricordiamo anche la montatura che è stata fatta ai danni del Sicobas per Dialdo Milani il coordinatore per attaccare le lotte dei lavoratori che con quella sigla si stanno spendendo sui 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 propri posti di lavoro in particolare nel settore della logistica quindi la solidarietà con i migranti è un aspetto per noi fondamentale la solidarietà internazionale impariamo l'internazionalismo poi è stato detto più volte oggi impariamo l'internazionalismo dai movimenti femministi dalle donne da questa fantastica idea dello sciopero internazionale lo sciopero mondiale dell'8 marzo che bisognerà continuare a lavorarci su perché non è detto che un'idea nuova produca necessariamente grossi risultati però qui c'è il riportare una giornata che era ormai diventata una celebrazione diciamo di di costume a una giornata di lotta è quello che dovremmo rifare c'è già una giornata come la chiedeva Fabio c'è il primo maggio nella storia del movimento operaio il primo maggio non è Fave e Pecorino questa la capiscono quelle di Roma il primo maggio è una una come lo è l'8 marzo una giornata indetta dai movimenti dei lavoratori di tutto il mondo dall'internazionalismo proletario è quello che deve essere riscoperto e tornare a essere oggi ma dobbiamo tornare a essere la sinistra deve tornare a essere internazionalista e deve impararlo da questi da questi movimenti quindi questa diciamo è la premessa a una proposta da sinistra e quello che noi possiamo provare e diciamo ci impegneremo nel prossimo futuro per fare è quello di costruire e proporre ad altri soggetti una coalizione anticapitalista a livello europeo una coalizione che si definisca su tre assi di fondo il primo l'abbiamo già detto la questione dell'internazionalismo la solidarietà con i migranti con i rifugiati quindi l'accoglienza la solidarietà con i popoli che lottano con i popoli che lottano contro i regimi oppressivi a partire dalla solidarietà con il popolo siriano il secondo elemento è l'indipendenza e l'alternatività rispetto a chi gestisce e porta avanti le politiche di austerità quindi rispetto alle social democrazie rispetto al partito socialista europeo rispetto alle borghesia diciamo nazionali anche quindi non soltanto rispetto al PD in Italia che ha magari diciamo una visione più europeista internazionalista ma anche rispetto ovviamente a quelle frazioni nazionali della borghesia che preferirebbero diciamo magari un progetto un'uscita dalle istituzioni europee ma per poi gestire in maniera reazionaria sul terreno nazionale le politiche antipopolari e terzo elemento anche questo fondamentale perché diciamo non è possibile un progetto una proposta non ha nessuna credibilità una proposta se non si pone in primo luogo la questione della ripresa del conflitto sociale cioè della ripresa dei movimenti dei lavoratrici dei lavoratori sui luoghi di lavoro per andare a erodere i rapporti di forza resistere e diciamo provare a erodere i rapporti di forza fra le classi sui luoghi di lavoro però per fare questo non possiamo rimanere subalterni delle burocrazie sindacali che invece si sono adagiate quando non hanno avuto una vera e propria complicità nel determinare la nuova la nuova situazione crediamo che una coalizione di questo tipo un fronte unico vada proposto diciamo non soltanto ce lo proponiamo non soltanto alle organizzazioni italiane ma credo che questa proposta debba avere un respiro europeo e quindi dobbiamo cominciare a ragionarci diciamo anche fra le organizzazioni della sinistra anticapitalista in Europa è una proposta diciamo che deve essere in grado di lanciare una sfida alta cioè prendere atto del fallimento del progetto borghese capitalista dell'Unione Europea e rilanciare il progetto originario cioè rilanciare il progetto di una federazione socialista noi diciamo ecosocialista europea che quindi tenga in conto anche delle esigenze di salvaguardia dell'ambiente che sia diciamo gestita e pensata e costruita in nome degli interessi delle lavoratrici e dei lavoratori degli sfruttati e degli oppressi quindi un progetto internazionalista ma radicalmente contrapposto a quella che è l'Unione Europea di oggi che invece fomenta i nazionalismi fomenta la rinascita delle destre fomenta l'inasprirsi delle diseguaglianze anche tra i paesi europei che possono poi portare diciamo a una nuova stagione di guerre e di distruzione in Europa perché questo è il problema cioè l'Unione Europea o almeno le prime istituzioni dell'Unità Europea nascevano proprio per uscire da una fase di contrapposizione tra i paesi europei e di guerre oggi ce le stanno riportando perché stanno costruendo dei livelli di diseguaglianza mai visti in Europa e per questo io credo che noi dobbiamo impegnarci con questa coalizione per costruire un programma che dia delle risposte alle lavoratrici e ai lavoratori europei non voglio eludere diciamo la questione dell'euro anche se è un dibattito così come è stato impostato sono d'accordo con chi l'ha detto prima di me che è assolutamente fuorviante diciamo perché non si può cominciare parlando dello strumento monetario strumento monetario viene alla fine come correttamente era stato fatto in Grecia per una certa fase cioè prima si rovescia nei rapporti di forza fra le classi e poi ci si pone il problema dell'applicazione di politiche anti-austerità e di come finanziarle e allora diciamo il problema della sovranità monetaria fa tutt'uno diciamo con il problema dell'autonomia del sistema bancario nel suo complesso quindi non soltanto delle banche della banca centrale cioè il problema dell'autonomia della banca centrale è un problema che è proprio il contrario di quello che sto dicendo io è proprio la mancanza di controllo da parte dei governi diciamo di quelle che sono le politiche monetarie ma il problema è la mancanza di controllo da parte delle lavoratrici e dei lavoratori del sistema del credito prima ancora che di tutto il sistema monetario allora è chiaro che si può porre diciamo per le differenze poi che ci sono anche nello sviluppo dei movimenti e dei rapporti di forza tra le classi nei diversi paesi europei è chiaro che si pone con ogni probabilità prima in un paese piuttosto che un altro il problema anche degli strumenti che tu ti dai per finanziare le politiche le politiche di redistribuzione le politiche di nazionalizzazione le politiche che vanno diciamo a vantaggio dei lavoratori e allora diciamo lì si mette in discussione la questione diciamo la questione dell'euro e della banca centrale costruendo però attraverso la nazionalizzazione del sistema finanziario una possibile diciamo alternativa di politica economica di politica economica complessiva quindi noi non siamo né quelli che difendono l'euro né siamo quelli che pensano che dobbiamo mettere diciamo la sveglia perché poi a volte viene detto questo che dobbiamo mettere sincronizzare gli orologi per coordinare l'insurrezione in Europa tutti nello stesso momento e prenderci la banca centrale europea così che il problema dell'euro non si pone non è chiaramente così noi però siamo quelli che mettono davanti al problema dello strumento monetario e della sovranità nazionale mettono davanti la questione della solidarietà fra le lavoratrici e dei lavoratori mettono davanti la questione dell'avanzamento nei rapporti di forza tra le classi in Europa senza i quali cioè senza un'inversione dei rapporti di forza fra le classi la gestione delle politiche economiche rimane in mano a pezzi di classi dominanti che diciamo possibilmente ancora anche peggiori di quelli che ci sono che ci sono adesso per cui diciamo si possono produrre effetti che non quindi su questo certo va tolta a parte ogni ambiguità perché poi ci sono pure questi pazzerelloni che da sinistra pensano di poter dialogare con posizioni di estrema destra o neofasciste come quella di Salvini del movimento di Salvini diciamo questo è ovviamente l'aspetto quasi folcloristico della della cosa ma diciamo è chiaro che queste deviazioni si pongono al momento in cui si perde di vista diciamo di quello che è il problema centrale cioè che per noi è quello di costruire una proposta internazionalista di classe rivoluzionaria per tutte le lavoratrici e i lavoratori europei grazie a tutti grazie a tutti Grazie.